gentili telespettatori buona giornata matteo salvini accelera federazione del centrodestra subito nuova telefonata con berlusconi accelerare velocizzare facciamolo subito anche perché berlusconi ha detto ma sono anche d'accordissimo a fondere i due partiti la i miei commenti di questi giorni di questi ultimi due giorni che ovviamente a qualcuno non piacciono ma ragazzi ragazze signori e signore a molti di voi non piace la realtà non piace sentirsi raccontare la realtà ma cosa volete che vi racconto la storia del mago la storia di rintintin parliamoci chiaro quello che sta succedendo nel centrodestra tutti i commentatori di centrodestra concordano con me dicono la stessa cosa che dico io matteo salvini sta accelerando perché giorgia meloni sta arrivando a tutta velocità ha sorpassato il movimento 5 stelle ha sorpassato il pd e sta arrivando sulla lega pertanto lui vuole subito subito federazione subito fondere due partiti nuovo simbolo nuovo nome forza lega lega forza quello che volete per avere un vantaggio competitivo che gli permetta di avere ancora dei mesi di vantaggio per poi cercare con i voti del centro di berlusconi di riprendere l'elettorato perso da berlusconi negli anni questo su questo che vi sto raccontando concordano tutti sallusti feltri del debbio porro tutti nessuno racconta la storia di babbo natale come qualcuno di voi vorrebbe sentirsi raccontare ma sentirsi raccontare le storie non vere a che cosa serve a non voler vedere la realtà babababa insomma è il capo della lega dice facciamo un vertice mercoledì subito mettiamo insieme le energie gruppi ministri battaglie emendamenti proposte di legge conteremo di più tutti ma io vi ho detto ieri e ve lo ribadisco forza italia vale 10 la lega vale 10 li unite in parlamento la somma non vale di più la somma è sempre 20 separati valgono 20 10 10 uniti valgono 20 10 più 10 non valgono di più però c'è c'è una differenza che adesso salvini gestisce quel 10 in parlamento e berlusconi l'altro 10 unendo quel 20 lo gestirebbe direttamente salvini perché berlusconi diventerebbe una sorta di presidente onorario e salvini diventerebbe il capo di un gruppo il più grande probabilmente che c'è in parlamento in forza italia molti frenano il gruppo di toti non entra toti non entra in quei toti ha capito toti a me non è mai piaciuto però ha capito quello che vi ho raccontato prima quello che sta succedendo e toti ha ambizioni personali alte lui si crede un grande politico lui si lui si crede alla pari di salvini meloni berlusconi invece no e invece no è una sorta di renzi de noi autri ecco quindi lui dice adesso con coraggio italia diventerò farò sarò ma che sarai mando vai come dice berlusconi ma dove va questo qua ma dove va questo e brugnaro ma i miei dove vanno i partiti dall'uno per cento e su questo ha ragione il berlusca ma nonostante i problemi in forza italia dove i dubbi su una federazione con la lega confusione dei gruppi parlamentari sono fortissimi in tanti anche vicini a berlusconi chiedono tempo 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 troppo di corsa perché silvio fa così perché tutta questa fretta salvini ha fretta ma berlusconi il partito non hanno fretta perché questa fretta di berlusconi ve la spiego io la fretta di berlusconi il suo partito non ha futuro forza italia parliamoci chiaro dai non stiamo anche qua a raccontarci le storielle forza italia è un partito che è arrivato alla fine dove ci sono tanti capetti la bernini la gelmini l'altra che cercano di emergere di sarai sarò il successore di berlusconi politici di non grande carisma che si sentono i successori del cavaliere ma berlusconi ce n'è uno è insostituibile diciamo così pertanto berlusconi dice cavolo con questa federazione io divento il presidente del primo partito italiano non del quinto partito al 6 per cento ma divento presidente onorario del primo partito italiano e posso convincere influenzare salvini salvini da parte sua dice vai adesso mi prendo il 6 per cento di forza italia e stacco di nuovo la meloni la meloni in accelerata ma io prendo con forza italia una di quelle accelerate che vado quasi al 30 per cento e così vuole subito un vertice mercoledì e lo fa con il consenso di berlusconi arrivato a sera dopo una telefonata con l'alleato nel quale i due hanno convenuto che il progetto è importante positivo e sarà aperto a tutti i gruppi della coalizione che sostengono il governo attenzione aperto a tutti i gruppi che sono di centrodestra nel governo non è aperto a chi è fuori dal governo cioè la meloni ma la meloni ha detto a me non interessa fate voi giorgia meloni è rimasta io me le immagino è rimasta così no sapete con quella faccia un po così di quelli che hanno sentito una cosa che non si sarebbero mai aspettati anch'io personalmente quando ho sentito questa cosa ho detto ma va è uno scherzo ma no e poi vedo che lo scrive il tempo il giornale il corriere della sera agi altre agenzie di stampa allora dico ma allora non è uno scherzo e mi sono subito chiesto ma dove porterà una cosa del genere questa estrema mossa di salvini colpo di coda per cercare di allontanare la meloni funzionerà se dovesse funzionare ci inchiniamo al suo genio è se dove ve lo giuro che se dovesse funzionare che la meloni comincia a perdere voti e salvini cresce di nuovo verso il 30 per cento io mi inchino mi inchinerò di fronte alla sua alla sua luminosità alla sua saggezza alla sua politica incredibile se dovesse succedere questo io vi ridirò è stato leggenda salvini sarebbe leggenda se riesce a fermare giorgia meloni la realtà è che non credo che passerà questo non non credo non credo non credo poi io sono un opinionista essenzio non è che sono un oracolo che vede nella palla di vetro sono una semplice opinionista pertanto quello che succederà non dipende da me quello che succederà dipende da voi voi elettori cosa state pensando io questo non lo so ho fatto dei sondaggi adesso sul nella community provate a rispondere grazie a tutti e buon proseguimento di giornata